A quanto pare con Dixory già va meglio Perché se non gioco Se non gioco mi va... Cioè se non gioco Se non gioco mi va a Cristo Questa quant'è chiesto Eeeh Eeeh Se non registro Dai Il volume è troppo alto Eeeh Se non registro mi va a 100 e passa FPS Se registro Passiamo un altro po' Mo' mi sta andando a 46 Prima ogni tanto mi scendeva a 20 Cristo regà 20 Vorrei tanto farmi un nuovo PC Però non c'è soldi So tutti esattamente i pezzi Da comprarmi Che mi vorrei teoricamente comprare Perché questa sta guardando l'auto Sta facendo B-Streep nella sua base Ui 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 Via Prima mi si inchiappiettano proprio a dovere Tipo prima? Cosa? Dai! Ah Peccato che non si preparano abbastanza veloci Stai dominando Scott Stai ancora dominando Scott Ci sono dei miei amici che dicono che io non muoio Eh Preannuncio Forse l'avrete già notato Spero che l'abbiate notato Non è una partita normale questa Stai bot Mi sto addestrando Da te ho appena preso Contest Strike Go Molto diverso da Contest Strike Source Cioè O almeno io mi sento diverso Sarà Soltanto Gioco di luci Per dirlo semplice Maestro Mi sento molto più overpower Cioè sto per ora ai bot medi Eeeh Rispetto ai bot medi Di Di Contest Strike Source Non c'è l'air acceleration Però io ce provo lo stesso Non vabbè Va Mi piace tantissimo quando uso il coltello alzato Uuh Au Dai Ma chi? Ah Uuh Mi ci trovo Spreva Ci trovo bene Molto bene Ah Spero che stia registrando il microfono Lo spero vivamente Mi è venuto il grosso dubbio se lo sta registrando oppure no Vabbè sia se lo registra sia se non lo registra Lo carico lo stesso So Ah Non lo farò più questa uccisione Guardalo Se lo colpivo col coltello una singola volta Era morto Come questo No Questo ce l'aveva tutta la vita Uuh Aia Cioè Au Dai Dai Tecno prisoner Comrade Tecno prisoner Comrade Come lo dicevo Ouch Ehm Servono rinforzi Prendi Non Non Sì, oh! Oh, sa-sa-sa-screeing time! Aya, cioè mi ha fatto esplodere le cervella. Brutalmente. Wah! Wah, mia! Wah! Pure questo. Ma dai, ma-ma-ma-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba,ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Tanto differenza di qualità di registrazione sono uguali Sia Dixory sia Sia Dixory sia Bandicam Cioè Nelle impostazioni in cui le metto io Giusto compressione dei file C'è chi me lo comprime di meno Chi me lo comprime di più Però Alla fine lo comprimo Fino a un certo livello Il risultato è uguale Mi sta piacendo un casino Contestrike global Perché ci sta fede in White shadow Che non se lo prende Perché dice Eh no sono tutti Blah 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 Poi Perché Giustamente Lui Gli rosica quando Le persone Lo amazzano come io Ammazzo gli altri Gli altri C'è nel senso Fum Giro Morto Headshot Boom Mi sono dimenticato C'è così Così Ouch Questo mi ha distrutto Ah Heck Oddio Devo evitare di saltare qui Ah Scusa Ho fatto fuoco All'alleato Vabbè che è un bot Però Io sono gentile Chiedo scusa Ouch Adoro le pistole Mi stanno piacendo un casino Le pistole Perché Cioè Avete visto pure prima Quando faceva Headshot 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 Ho detto Good kill Ah Una volta che riuscirò a fare Tutte Che è Trento Scusi Morendo Morendo Una Forse due volte Posso mettere la difficoltà Il bot più alta Dio C'è Dai Non è morto Non è morto No No Proprio quando Stai Guarda Quanta vita C'è Dai Ci avessi avuto Un singolo colpo In più Quello Fatidico In canna Ehm Sì Certo C'ho capito Tutto Oddio Senti C'è Quando vado a fare Le uccisioni Istintive Come le chiamo io Quelle Proprio Dove Vedi un nemico Gli vai a sparare Dove credi Che Possa essere Ehm Doi Ouch Ma come perfetta A me Specialmente qui Su Contestrike Sempre 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 Sbagliata Arma Ma quell'arma Mi pare Non sia Semin'automatica Dato Do Adorata Desert Wow Bel fermi Immagine Adorata Desert Col paparino Ah no 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 10% di vita Ma ciao Ci vediamo Dai Fammi riavere L'arma Grazie Non vi regalo Non vi regalo la mia vita Manco poco Ci sono i bravi Sono proprio regalati Sì Ah Alla faccia tua Ha ha Vabbè Dai Finiamo Ciao ragazzi No 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 Grazie.